Bottecchiare fatto corse, challenge your limits. A circa 7 km dall'arrivo Francesco Failli è costretto a fermarsi per un salto di catena, ma riesce a risolvere il problema rapidamente mantenendo la testa della gara. Il Toscano fa su alla subgarra bike con il tempo di 2 ore 2 minuti e 14 secondi, davanti al compagno di squadra Alexei Medvediev, terzo posto per Daniele Menzi. In campo femminile cavalcata solitaria per Katagina Sosna del Torpado Sud Tirol, al comando fin dai primi chilometri di gara. Secondo posto per Serena Calvetti del team KTM, che al traguardo di Medole ha preceduto di un paio di secondi Elena Gaddoni del team Taddei.